Buongiorno, 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 buongiorno. Era un soldato che era diventato l'alliente di tutta la caserna, perché acclamava i suoi compagni e mostrava che colpa per colpa, lì che lui attraeva, vedeva che era al centro di un cerchio e tutti dicevano, Dio c'è smicchia, ha le simplici propite, non sbagli una volta. Sì che, una volta che lo sentono attrae, stanno attenti a cercare cosa succede e hanno visto che lui attraeva a casa. Dopo, con il gesto, arriva attorno ai bambini e ai palottoli a fare il cerchio. A me mi sa me che i soldati lì, a quei che favevano senza pensare e dopo ci rendi combinare in qualche modo. Buone giornate e buone vite. Grazie a tutti.